Musica Decine di realtà territoriali coinvolte, oltre 30 appuntamenti tra laboratori manuali, seminari didattici, momenti ludici, spettacoli teatrali e conferenze scientifiche. 15 location tra Ostia, Cilia e l'entroterra, MAM e Bimbi in Rete, Municipio Decimo e Associazioni Insieme per Innovare il Sociale. L'iniziativa dell'assessorato al welfare e alla salute è realizzata con la collaborazione delle biblioteche di Roma e il patrocino dell'Arge Regione Lazio. Un contenitore di proposte che saranno rivolte alla cittadinanza nel mese di marzo e che è stato possibile organizzare grazie al contributo di tutte le associazioni del territorio, da Mamme Care a Punto D, da Abilmente Onlus, al Centro per la Vita Onlus e tante altre. Abbiamo voluto dedicare il mese di marzo iniziative finalizzate a riflettere e suggerire idee nuove sulla qualità della vita delle mamme e dei loro bambini, ha spiegato venerdì nell'aula consigliare Mastimo di Somma l'assessore al welfare e alla salute Emanuela Droghei. L'obiettivo dell'iniziativa è creare una rete tra donne che vivono lo stesso territorio, realizzando una collaborazione tra istituzioni e associazioni che operano sul campo, portatrici di esperienze che in qualità di amministratori locali riteniamo degne di attenzione. Le associazioni che hanno aderito a Mamme e Bimbi in Rete, infatti realizzate a costo zero per l'amministrazione, hanno scelto di mettere la loro esperienza al servizio del decimo municipio, realizzando seminari su temi di interesse pubblico, workshop creativi, gruppi di mutuo aiuto tra mamme, spettacoli teatrali dedicati alla figura dei genitori, mercatini di scambio e merende solidali. Le iniziative si svolgeranno poi in tutto il territorio municipale, in numerose location, dalla città dei Messieri alla torretta di Piazza Capelvenere, sino al centro sociale polivalente. La direzione dell'Asle Roma D ha poi messo a disposizione la Casa del Parto e la Casa della Salute di prossima apertura. Grazie alla disponibilità dei direttori saranno direttamente coinvolte negli eventi anche le biblioteche Elsa Morante di Ostia e Sandro Nofri di Acilia. Nell'ambito di Mamme e Bimbi in Rete si svolgerà poi la conferenza Vaccini Autismo patrocinata dal Ministero della Salute e organizzata da Mamme Care. Venerdì 27 si terrà invece un'iniziativa dedicata alla promozione di Ostia, municipio amico di Mamme e Bambini, con la partecipazione delle associazioni di categoria del litorale. Per tutte le informazioni visitare il sito www.socialereale.it